Mirka Sartori Conte. Miss Italia 1964. Nata a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, ha vinto lo scettro di Miss Italia a Salsomaggiore. Ex modella, sognava un futuro d'attrice, ma alla fine scelse di dedicarsi unicamente alla famiglia, facendo la casalinga e dedicandosi ai due figli, Manuele Massimiliano, e al marito, rappresentante nel settore degli elettrodomestici. Per Mirka il concorso di Miss Italia resta solo un ricordo curioso e divertente.